USLO WEB RADIO 331 30 97 852 www.webradiouslo.it Ascolta quando vuoi e dove vuoi USLO WEB RADIO, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Pronto? USLO WEB RADIO. Oh, finalmente, grazie, guardi. Io sono l'avvocato a Montemurro, è da ieri che provo perché sono disperato. Mi dico? Sono disperato, sono disperato. E' il secondo di Natale, mi dica, mi dica. Intanto ti faccio tanti auguri e la ringrazio che mi richiama, ma guardi, sono proprio disperato perché ho, guardi, scusi l'agitazione, ma praticamente ho da fare l'autocertificazione, sa, per i crediti del triennio, no? Sì. E nulla, sto veramente messo male, allora io, come molti hanno parlato molto bene della vostra application della radio e per lo smartphone, praticamente io volevo adesso, sotto Natale, che poi ho una situazione, guardi, mi scusi se mi permette, ma vabbè, è una situazione molto... Dica cosa le serve e come possiamo aiutarla. Praticamente io non sono smarting, cioè nel senso non ho conoscenze... Ha caricato l'app sul cellulare. Eh, eh, io per cui, guardi, lei se mi aiuta, se mi aiuta, lei mi dà il suo indirizzo e io le mando una cassa di vino, gliela mando, glielo prometto, perché, guardi, io sono disperato. Adesso lei mi deve dire come si fa a scaricare questa app perché io ho provato su Facebook, su Instagram. Android, no, che cellulare è Android? Io ho Huawei, della scuola di cinesi, P20, Huawei, sì, Huawei. Perfetto, perfetto, è un Android. Allora, lei deve andare sul Play Store, mette il ditavoce che l'aiuto io. Ah, ok, perfetto, allora vado su Spotify. Mettete il ditavoce. Ha messo il ditavoce? Ha messo il ditavoce, sì. Ok, ha il cellulare, riesce a guardare lo schermo? Sì, sono, aspetta, sono su Spotify, adesso. No, non c'entra niente Spotify, lui deve andare su Google Play, assolutamente no. Cioè, lì, su Spotify, lui può anche ascoltarci, ma non c'entra niente con i corsi. Vada su Google Play. Ma io su Spotify posso ascoltare la radio? Lasci perdere Spotify, lui deve scaricare... Guardi, mi scusi, mi scusi, mi scusi, perché guardo una situazione... Google Play, lo immagino però oggi è Natale, la voglio aiutare, però dobbiamo essere più veloci. Allora, Play Store, Play Store, Play Store, perfetto, scriva Yuslo Web Radio. Yuslo, Yuslo Radio. E le uscirà subito, è un'icona blu con scritto Yuslo. Eccola qua, mamma mia. Installa. Installa, sì, fatto. Ok, ora attendiamo. Ora, mentre le stai installando, ascolti me, consarmi. Sì, sì, ma sono agitatissima. No, non si deve agitare, ascolti, ascolti. No, perché lei deve sapere che, guardi, io sono da mia madre adesso, perché ho scoperto pure che mia moglie mi ha fatto il regalo di Natale con il mio collega di studio, non le dico altro. Ah, perfetto. Pensi un po' come sto messo, no, adesso, no? Sto qua da mia madre, non ho neanche la ISPN per andare in internet, sto col cellulare che prende, non prende, cinese pure. L'aiuto io. Va bene, grazie. Se mi aiuta, guardi, le mando una cazza subito. Subito. Non si preoccupi, ascolti. Allora, l'acqua ha finito di essere spiegata. Sì, sì, sì. Perfetto. Pronto, è caduta la linea? Pronto, è caduta la linea, non ti preoccupo, l'importante che l'abbiamo ripristinata. Grazie, 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 l'ho scaricata, l'ho scaricata. Ok, lei clicchi in alto a sinistra, vedrà che ci scherzetto, accanto a USLO WEB RADIO, ci sono tre scherzette, lei ci clicchi sopra. Sì. Ora, le è uscito il banner, cioè una finestra a tendina a sinistra, ci siamo? Il banner? Sì, diciamo, si è aperto un menu a tendina, dove vede un elenco, home, recente, puntate. Cioè, tendine non ne vedo, nel senso, cosa intende per tendina? Allora, l'ho detto, ha aperto la... Sì, 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 sì. In alto a sinistra, in alto a sinistra, lì trova tre pacchette, tendine orizzontali. Sì, ecco, quella è la tendina, mi scusi. È uscita, no, non si trova, perché ha aperto la tendina? Non sono il massimo. Vede che c'è scritto, home, recenti, puntate, così via, sotto c'è scritto radio learning, clicchi su radio learning. Fatto, fatto, radio learning. Perfetto, ora lei si deve iscrivere, deve seguire la procedura, ascolti, è importante che in questo... no, no, lei chiede solo nome, cognome, partita IVA, non la partita IVA dello studio associato. Ah. Lei deve dare le sue credenzioni. La mia personale. Ok. Perfetto, ascolti, lei ora si deve prendere tranquillamente il tempo che le serve per compilare tutti questi dati, attenzione a citare nome, cognome corretto, partita IVA, la sua personale, non dell'eventuale studio associato, mi raffomando, ma correttamente... Mamma, un attimo, sto al telefono, scusa, per lavoro, lo so che è Natale, un attimo. Scusi, eh. Eh, lo so. È Natale, guardi, io sto qua, mia moglie non so neanche dov'è, guardi, ma non... Eh, la capisco, mi dispiace veramente, però lui vuole avere la guaglia di crediti. Eh? La carta di credito? Lei deve trovare i crediti. Ah. No, deve trovare i crediti, ascolti, è molto semplice, lei ora mette tutti i dati che servono, dopo di che le riceverà una mail con il suo username e password. Oddio, adesso sta, già parla un po' troppo complicato. Un nome, un nome praticamente, gli arriverà una mail dove avrà due dati, una password... Quindi ci riesco pure la mail qui dentro. Sì, attenzione, che la mail deve essere corretta, non lo faccia ora mentre sta parlando a sole perché mi tremano le mani, mi tremano le mani. No, eh no, non serve a niente. Ascolti, una volta che ha fatto questo, riceverà questa mail qui dove avrà un nome utente e una password, lì entra nell'app esattamente come ha fatto ora, le mette... Sempre col Huawei questo? Sempre, sì, sì, tutto da cellulare. Tutto dal Huawei? Solo cellulare. Ma col mio, col Huawei funziona, lei me lo garantisce? Quando vuole il corso. Lei mi garantisce che col Huawei funziona? Sì, non si preoccupi. Anche se è cinese, non è che poi mi spiano... Non si preoccupi. Ah, sai che dicono che spiano i cinesi col telefono? No, ma la lascio perdere. Non è vero? No, la lascio perdere. Ah, io non mi fido. Una volta che ha ricevuto la mail, ha il suo nome utente e password, dopodiché non deve fare altro che inserirle, ha una cassa MasterCard con sé, una cassa, lei può andare a fare la poste e pay, la poste e pay, quella con cina. La poste e pay, la poste e pay, lei va a vedere... Le posso dare cina? Le posso dare cina? Un cinto MasterCard, no, non mi deve dare niente, quello lo deve mettere lì, nel portale. Il pin ci dico. Lei, una volta che ha ricevuto la mail con il nome utente e password, entra da capo esattamente come il fattore, apre l'app, le tre linee orizzontali, le clicca, le clicca, le learning, si mette perfetto le credenziali, dopo lì che lei avrà l'elenco di tutti i corsi che può fare. Lei ci clicca su qualsiasi corso a lei piace e ti dirà acquista o ascolta gratuitamente? Ma poi non ci devo andare fisicamente. Ma poi non ci devo andare fisicamente. No, non deve andare fisicamente da nessuna parte. Questo dicevo. No, lei deve fare tutto tramite cellulare. Da mia madre ora. Lei deve fare tutto tramite cellulare. Ok, ok, ok. Quando ha selezionato il corso, di niente, quando ha selezionato il corso, deve digitare il suo acquista, non ascolta gratuitamente, perché se lei ascolta gratuitamente non ci ha testato. Il suo acquista mette i dati della sua carta, le chiederanno il numero della carta, quando cale, per la posta e per la posta e per la posta, costa 2,99 euro il corso, quindi 3 euro. Una volta che ha messo i dati della sua carta... 3 euro un corso solo costa? Sì, 3 euro un corso. Un esame? Sì, perché... È 20 anni che non faccio esame, 20 anni. No, ma sono domande... Lei deve ascoltare il corso. Cioè l'importante è che lei ascolta il corso. La domanda farà su quello che ha ascoltato. E se sbaglio? Ritorna indietro, cioè lei ha ascoltato 5 minuti e lei ti fa una domanda, lei risponde in maniera errata con la domanda, torna indietro, automaticamente fa tutta l'applicazione, lei non deve fare niente e lo riascolta. Tutto uguale. Quando finisce tutto, risponde correttamente a tutto, uscirà un incasso che gli viene eseggiare, corso completato, appena il corso completato, automaticamente dopo qualche minuto gli arriva una mail con l'attestato, lei con l'attestato lo prende e lo porta al suo un po' la pazienza. Ma senta, lei conosce anche Pierluigi Serra e Valentina Carollo? Certo, certo. Ma allora deve ringraziare loro per questo scherzo telefonico che le abbiamo fatto. Complimenti! Mannaggia. I miei complimenti per la pazienza. Ma inizio allora. Ti dice il peccato? Ma non il peccatore. A presto! E' con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia. Grazie a tutti.